Inizia un'avventura difficile ma anche molto gratificante ovviamente per me e per tutti coloro che hanno contribuito a questa vittoria. Ora cominciamo a lavorare, come abbiamo detto in campagna elettorale, partendo dalle esigenze, dai bisogni dei cittadini, della nostra comunità, delle imprese, viviamo in una situazione di crisi economica e la massima attenzione deve essere data alle esigenze che vengono da questa situazione di difficoltà. E poi una grande opera di manutenzioni, come abbiamo detto in campagna elettorale a Perugia si conclude un ciclo di grandi interventi, di grandi trasformazioni, di grandi opere, ora pur non abbandonando l'ambizione di realizzare grandi interventi dobbiamo lavorare a far sì che la grande opera sia un insieme di piccoli interventi, primo fra tutti la manutenzione e l'adeguamento delle nostre strutture scolastiche ma poi a riverdi strutture per la socialità, una grande operazione di manutenzione delle strade, realizzazione di marciapiedi e poi i temi che sono stati al centro, forse un po' troppo enfatizzati della campagna elettorale ma sicuramente molto presenti nella nostra città. Io al primo punto ci metto lo spaccio di sostanze stupefacenti, il contrasto che dobbiamo mettere in campo, che debbano mettere in campo insieme a noi le autorità giudiziarie, le forze di polizia e poi ovviamente anche un'attenzione alla domanda, al perché c'è tutto questo consumo. Queste sono le priorità, adesso siamo impegnati insieme alle forze di coalizione a costruire la squadra di governo, dovremo poi lavorare con tutto il Consiglio, come ho detto fin dal primo giorno dopo le elezioni io sono perché il Consiglio Comunale sia attivamente coinvolto nella fase di indirizzo, di controllo, come dice la legge e tutte le forze politiche, non soltanto la maggioranza, mi auguro che anche le forze di opposizione sappiano raccogliere questo invito alla collaborazione con noi nell'ottica di migliorare la nostra città.